Sale rosso delle Hawaii. Benvenuti in un'altra storia di sale dove grazie a una cosa così comune come il sale facciamo un viaggio in giro per il mondo per le tradizioni culinarie. Anche chiamato sale alaea viene prodotto ovviamente nelle Hawaii. Il suo aspetto rosso opaco viene dato dal fatto che questo sale viene mischiato con una argilla vulcanica che contiene molto ossido di ferro che proprio che dà il colore rosso. Questa percentuale di questa argilla è relativamente alta. Pensiamo altri sali rossi per lo stesso motivo come il sale per esempio rosa imalaiano. Il sale rosa imalaiano è comunque il 98 per cento cloruro di sodio. Il sale della Hawaii è circa l'85 per cento cloruro di sodio quindi ha un buon 15 per cento di questa argilla che oltre quindi essere una relativa fonte di ferro contiene altre 80 sostanze che potenzialmente potrebbero essere utili per l'organismo. L'argilla alaea inoltre ha un ruolo molto fondamentale nella società della Hawaii perché viene anche usata nel ruolo tradizionale per eseguire per esempio dei rituali di purificazione. Viene ovviamente anche abbondantemente utilizzata nella cucina tradizionale delle Hawaii in particolare nella preparazione del maiale kalua e particolarmente infatti indicata in generale per i piatti di carne e di maiale. Il sapore... si sente questa argilla? Un sapore di terra abbastanza distinto, non affumicato a differenza di molti altri sali di questo tipo e quasi voglio osare e dire alla lontana nocciola. Fra tutti questi sali un pochino più ricercati il sale rosso delle Hawaii è uno dei miei preferiti soprattutto per il sapore perché ha un sapore abbastanza distinto. Sia ben chiaro è comunque sale, ha il sapore del sale e la funzione del sale ma secondo me sa donare qualche tocco in più. E poi l'argilla vulcanica, il fatto che sia vulcanica è una figata assurda. Se vi interessa anche a voi provare questo sale per qualche vostra ricetta vi lascio un link in descrizione che potete usare per acquistare questo sale su Amazon. Ci vediamo al prossimo viaggio!